Amici di Enjoy Television, partiamo dalla fine per raccontarvi l'inizio. Questa è stata una grande serata al Golden Gate insieme agli amici di Angels of Love. Andiamo a fare quattro chiacchiere insieme ad Eric Morillo. Amici di Enjoy Television, la serata al Golden Gate è finita. Sono le 6 del mattino. Mr. Eric Morillo, hi! Hi, come ti? Sono eccezionale, ho avuto un buon momento in Napoli. Angels of Love, sempre una buona partita e l'energia è una meraviglia. Lo amico in te. Questo è il tuo weekend italiano. Hai spiegato a Milano, oggi a Napoli. Oggi a un'altra parte, a un'altra parte, a un'altra parte, a Napoli. Benevento. Esatto, esatto. Quindi, la tua collaborazione con Angels of Love, mi racconta qualcosa di questi ragazzi. Sono i primi persone che mi portavano in Italia, nel 1994-1993. e noi siamo in contatto e ora siamo veramente buoni amici. E l'energia e la meraviglia che succedono in qui. E' un'altra parte, in Italia. E' sempre una buona partita. E' sempre una buona partita. E' sempre una buona partita. Quindi, Angels of Love, sicuramente, conosce come promuovere una partita. Io voglio parlare con te del progetto, Symfony Info. Symfony Info è un gruppo che io, Harry Cicci Romero e Jose Nunes hanno formato. E abbiamo un'altra parte di record questo anno. E' un'altra parte di lavorare con grandi artisti, come il nuovo album Pitbull, Mark Anthony. Ci sono tantissime altre persone sull'album. Ma sarà un buon anno questo anno. Questo progetto? Sì, sono io, Harry Romero e Jose Nunes. Abbiamo un'album, abbiamo una compilazione che è arrivata nel 20 marzo. È il primo singolo, che è featuring Segarra. E' chiamata Beautiful Reality, che è arrivata in aprilio. Ci siamo amici per quasi 20 anni. E abbiamo una buona chemistra in studio. Quindi c'è molta buona cosa che è arrivata. Sì. 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 Harry, Jose e poi sto facendo l'ultra e poi sto facendo la partecipazione e poi sto facendo la partecipazione di Liv va essere una buona giornata è sempre stato questo è il momento in cui sia gli amici, l'industria che tutti vanno insieme per piña colada e essere sotto il sole in cui è la nuova season molti cose sono cambiando, molti DJ si è cambiando, si è cambiando il DJ booth in Pascia, ma per me il nostro tema è il bello realtà e tutte le decorazioni e le danza, tutto è una bello realtà e abbiamo io, Chuck Danny Teneglia, Harry, Jose Anthony, e poi facciamo la notte settimana, è una buona notte cosa pensi di DJ Tiesto in Pascia penso che è buono per lui perché anche se il privilegio dove si giocava prima era sempre bello non era proprio l'elemente almeno in Pascia sarà un po' di due ma penso che è incredibile questo è un buon periodo per gli Stati Uniti per la musica danza quindi è qualcosa di cambiare? sì, assolutamente un anno e un po' di due avanti hai capito la cultura di tutti i ragazzi che ascoltano e poi un po' di due quindi è sicuramente wow ciao grazie mille vediamo in Miami ciao bellissima ciao 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 This is Eric Barillo from Subliminal Records and you're watching NJOY TV baby, don't go anywhere. Ciao!